Musica Torna Caronte dopo un'estate ballerina con il bacio di azzurro, il mega anticiclone che ha portato la più bella estate in tutta Europa e i flash storm temporali veloci e improvvisi, l'estate entra nel vivo con il volto e il caldo di un anticiclone africano che ha radici subsariane. Caronte si piazzerà infatti sulla penisola a partire dall'ultima settimana di luglio accompagnandoci così fino a ferragosto. I 35 gradi spiega il meteo.it saranno la norma, anzi in alcune città come Bologna, Firenze e Roma le temperature supereranno i 36 con affa e umidità che ci faranno compagnia anche di notte. La colonnina di mercurio salirà ben oltre in Sicilia, Puglia e Calabria dove nei primi giorni di agosto si toccheranno i 40 gradi. Solo dopo a ferragosto l'abbraccio dell'anticiclone africano ci lascerà per consegnarci a un periodo di tregua prima dell'estate settembrina. Grazie. 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 Grazie.